Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, 9 km di coda per incidente al km 310-600, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Per i veicoli leggeri e le brevi percorrenze, si consiglia di uscire ad Incisa, seguire le indicazioni Ponta Seve-Firenze con rientro in autostrada a Firenze Sud. Per le lunghe percorrenze, uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Siena-Bettolle in direzione Siena e la Siena-Firenze in direzione Firenze con rientro in A1 a Firenze in Pruneta. Coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. In FIPILI, coda in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze, e code tra la Strassigna e Firenze-Scandici in direzione Firenze. A Firenze per la tramvia, al Via Stasera, i lavori di rifacimento della pavimentazione in Viale Belfiore, nell'area dell'intersezione con Via Marcello e Viale Redi. Ed è tutto, buon viaggio! In FIPILI